Non potevano costituire un passatempo. Cerchio Firenze 77 Attraverso Roberto Setti Scuola del Cerchio Firenze 77 Essere e divenire a cura di VB 15 novembre 1975 Dali Vedete figli Fin dal tempo in cui abbiamo cominciato a portare Il nostro insegnamento Cioè da quando avete cominciato a rendervi conto Che queste comunicazioni non potevano Costituire un passatempo Né un mezzo per soddisfare le vostre curiosità umane Noi abbiamo curato che questa cerchia di amici Che liberamente si riunivano Tale rimanesse nel tempo E stranea ad ogni forma di organizzazione Perché noi siamo convinti Che le organizzazioni che acquistano una personalità propria Finiscono col perdere il contatto diretto con l'uomo La capacità di comunicare col singolo Al di là di ogni barriera ideologica Noi abbiamo fiducia nell'opera individuale Nell'aiuto che l'uno può dare all'altro direttamente Senza che il beneficato debba abbracciare come contropartita Un'ideologia o una religione Per questo motivo ed anche per altri Fin da allora vi abbiamo spinto alla riservatezza Vi dicevamo Parlate pure delle verità che venite a conoscere Ma non specificate come le avete conosciute Comportatevi come se fossero delle vostre personali opinioni Inoltre Non vi abbiamo mai spinti a credere di essere voi E noi Investiti da una speciale missione divina E' vero? Né di trovarvi di fronte ad un complesso di fenomeni Di una certa rilevanza Di quest'ultimo fatto ve ne siete resi conto solo ultimamente Quando avete cominciato ad avere contatti con altri gruppi E da altre fonti A distanza di trent'anni dalle prime comunicazioni Volgendovi nel tempo a esaminare la nostra opera Vi sarà facile vedere il programma che abbiamo svolto Che non vi appariva e non appare Nel momento in cui passo su passo lo attuiamo Lo scopo delle nostre comunicazioni Non è quello di provare l'esistenza obiettiva Dei fenomeni fisici Né della sopravvivenza di un quide immateriale Alla morte del corpo O meglio Forse abbiamo provato tutto ciò personalmente A ognuno di voi Se invece avessimo voluto provarlo all'opinione pubblica Allora ci saremmo serviti di questo strumento In quel senso Ottenendo forse fenomeni più rilevanti Di quelli che comunemente osservate Ma che scopo avrebbe dimostrare alla generalità degli uomini La sopravvivenza dell'essere Forse per imbrigliare nuovamente l'azione dell'uomo Con la paura dell'aldilà O con la preoccupazione di procurarsi un avvenire radioso Dopo la morte No Quando gli elementi sono forniti Ciascuno a questo punto della evoluzione Deve trovare da solo la propria certezza Quindi con gli altri comportatevi come noi ci comportiamo Lasciate che ciascuno scopra da se stesso Di che cosa ha bisogno Viva libero nelle sue convinzioni Subisca gli effetti delle cause liberamente mosse Fornite cioè gli elementi E lasciate che ciascuno tragga la sua conclusione finale Grazie 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 Grazie